Sì, perché secondo me poi sminuisce quella che è la gravità del fatto e lo fa diventare quasi una telenovela di cui si aspetta il finale, poi se il finale non c'è si aspetta, prima o poi arriverà e aspetta, cioè ormai è diventato, è come se uno seguisse tante telenovelas, capisci? Dei casi, delle fiction, però in qualche modo forse... Qualcuna si chiude e qualcun'altra viene sospesa per scarso gradimento. Io credo che le cose brutte finché la gente non le vive nella propria persona diventano, credo, una cosa da spiare proprio perché non sono successe a te e quindi c'è una forma di morbosità, un piacere perverso nel vedere che queste cose capitano agli altri, forse per esorcizzare una paura interiore che queste cose possano capitare a se stessi. Ma sembra quasi che quando uno vede queste notizie sembra quasi non possa mai capitare a se stesso, però invece io poi tra l'altro non l'ho detto prima, abbiamo parlato di altro, una cosa per esempio è successa, io abbiamo vissuto noi non tanto come Radio Roma ma come Italimedia.it, perché tra l'altro non voglio adesso dire i nomi, però c'è una nostra collaboratrice che è stata vittima di un caso di cronaca molto grave, il padre è stato trovato sgozzato insomma in una... Il padre? Sì, il padre nella cantina di casa, se hai sentito la cronaca insomma avete già capito di cosa si tratta, ancora non è stato trovato il colpevole, sono i carabinieri di Frascati che indagano su questa cosa di cui non si riesce a capire neanche il movente, però c'è una situazione molto particolare, però noi l'abbiamo vissuta in prima persona perché siamo stati vicini, molto vicini tra l'altro a questa nostra collaboratrice, e anche lei diceva io sentivo sempre queste notizie fuori, cioè dall'esterno ecco e non pensavo mai potesse capitare a me, adesso quando le ascolto è tutta un'altra cosa, insomma ecco ricorrivo sempre a quei momenti. Sì, è uno diventa molto più sensibile. Rivo sempre a quei momenti. Le vive più direttamente quando subisci una cosa del genere, quando la senti non è più quella morbosità che può avere una persona che non ha toccato, da vicino a una cosa del genere, ma penso che ci si senta male, ci si immedesimi in qualche modo, no? Credo. Certamente. No, io l'ho vissuta chiaramente di riflesso, chiaramente, perché noi siamo stati vicini, insomma per qualche giorno abbiamo anche messo da parte la maggior parte del lavoro per stare vicino a lei, sembrava giusto, doveroso. Certo. Però ecco, di riflesso, già vivere forse in prima persona comincia... C'è un altro discorso. Sicuramente, sicuramente è così. Comunque, per quanto riguarda invece, per esempio un caso che forse è diventato un caso mediatico molto più degli altri, ecco, il caso di Anna Maria Franzoni, delitto di Cogne. Pio Francesco è molto ferrato, ma a parte ferrato, ma è molto critico nei confronti di tutto ciò che è successo nel caso di Anna Maria Franzoni. Perché gli altri delitti sì, però nel caso proprio addirittura che si fa diventare un personaggio televisivo, un protagonista, addirittura penso che gli sia stata proposta la consulenza in caso di omicidio nella tradizione porta a porta. Mi sembra veramente qualcosa di esagerato. Tu come la vivi? Tu cosa ne pensi? Io penso che quella sia stata veramente un'esagerazione, nel senso che è vero che è una cosa aberrante il matricidio, nel senso... No, scusa, il matricidio, come si chiama? Sì, il matricidio si è stata lei, però... No, no, figlicidio. Come si chiama? No, no, sì, chiedo scusa, sì, il matricidio è quando un figlio amazza la madre, certo, figlicidio, sì. La mamma che teoricamente amazza un figlio si chiama figlicidio. Figlicidio, sì. Figlicidio? Sì. Scusate la confusione. Ma io credo che è giusto provare aberrazione per una cosa del genere, ma questa esagerazione di farlo diventare un caso mediatico, addirittura di farla diventare quasi un personaggio pubblico, io credo che... Si sia travalicato il limite del buon gusto. No, è proprio la manifestazione della morbosità della gente, perché, insomma, non c'è... Beh, però se da dire in questo caso ha secondato anche dai diretti interessati, che hanno fatto di tutto per esporsi... Ma io non credo questo. No? No. Uno si può anche rifiutare di andare in televisione a rilasciare interviste se vuole, eh? Io credo che... Magari se si vuole difendere va dai giudici in qualche modo o cerca di... Non c'è, in quei momenti uno fa di tutto per... Eh, lo so, però poi... Per solidarietà, no? Perché poi la gente in qualche modo giudica da casa, eh? Ma io sono colpevolista come credo la maggior parte della gente. Però... Eh... Credo che lei, quando faccia quelle manifestazioni in pubblico, sia in buona sede, e quello è il problema. Quindi questo ha creato... Forse una miccia... Tanti non la pensano così, francamente. Tanti pensano che sia... Un modo per impietosire l'opinione pubblica. Ma anche, però... Perché sai... Sicuramente uno cerca... Se è veramente colpevole lei, ripeto, non sta a noi dirlo, però se veramente lei è colpevole, contraddice il fatto che lei sia in buona fede. Una mamma che ha ucciso non è mai in buona fede. No, lei ha in buona fede, io volevo dire che lei non se lo ricorda assolutamente, no? Perché sono casi veramente da manuale di psicopatologia che sono molto difficili. Ma lei è risultata... È stata condannata due volte, adesso processo... Non è ancora... Non c'è ancora una sentenza per essere ingiudicata, quindi teoricamente ancora non possiamo additarla come colpevole. Anche se ha avuto già due condanne. Io l'arrivo con colpevole apprezzine. Aspettiamo il giudizio in Cassazione. No, però c'era purtroppo la presunzione... Cioè, purtroppo, è giusto che sia così la presunzione di innocenza fino all'ultimo grado di giudizio. Certo, certo, certo. Perciò non si può assolutamente assicurare una colpevolezza a una persona, insomma, che non è stata ancora condannata. Anche se, ovviamente, la gente ha il diritto di farsi un'opinione, no? Perché la gente, giustamente, si fa un'idea da casa. La proposta di condanna, questo si può dire comunque, perché oggi è stato condannato, effettivamente, il senatore Giulio Andreotti per difamazione nei confronti di un magistrato. In questo caso è una condanna. Tra l'altro l'agenzia di stampa, erroneamente, ha scritto che era stato assolto in alcuni delitti, cioè in un delitto che gli era imputato, che poi è un reato che gli era imputato, appunto, era il concorso esterno di assoluzione mafiosa. Parlava di assoluzione. Effettivamente Andreotti non è stato assolto. È stato assolto in primo grado, con formula dubitativa per insufficienza di prove, ma è stato prescritto in secondo grado, cioè in appello, in cassazione, proprio perché i termini ormai erano decaduti, però era stato riconosciuto colpevole, perciò non assolto ma prescritto. Invece in questo caso è stato addirittura condannato per aver, praticamente, detto che il giudice, un giudice che aveva un magistrato che ha testimoniato, insomma contro il giudice del processo, aveva detto che il magistrato sta mentendo, è un falso... Sì, per calugna? No, è diffamazione in quel caso. Ah, perché l'ha detto a mezzo... Sì, a mezzo stampa l'aveva detto. A mezzo stampa, ecco. Ecco, a proposito di questo, ricordiamo che Elisabetta è un avvocato, è laureato. No, nel senso, ho fatto solo l'esame, non sono pratico. Sì, vabbè, comunque, insomma, è laureato invece, quindi parla con cognizioni di causa, eh, non ce ne dimentichiamo. Vabbè, io mi ricordo poco che... Il papà è uno dei più importanti avvocati del cinema italiano e difende i suoi clienti dei grossissimi attori, produttori, grossi personaggi del cinema, quindi Elisabetta è dentro del mondo del cinema, ma anche quello giudiziario. Dicevi, Elisabetta? No, no, che stavo andando via la linea. No, 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 invece no. Ci sentiamo bene. Ci sei, ci sei. Bene, a questo punto, Elisabetta, io ti ringrazio tantissimo per questo intervento. Grazie a te. E, niente, ci sentiamo prestissimo. La vorrei ricordare, ragazzi sui 18 anni bellissimi e che sappiano recitare, possono contattare Elisabetta Rocchetti che presto dirigerà un film, contattando il sito www.elisabettarocchetti.it Bravissimo. Bene, un saluto Elisabetta Rocchetti, grazie di aver stata con noi di nuovo. Ciao, ciao, un bacione. Grazie a voi. Ciao. Ricordiamo appunto protagonista Elisabetta Rocchetti, protagonista di Taglia a Corto, appunto il film breve, diretto da Pierfrancesco Campanella. A questo punto è l'ora della pubblicità, in ritardo la linea alla regia, poi ritorniamo in studio. Siete su Radio Roma. Da Radio Roma, la radio dei VIP, incontri, colloqui, interviste ai maggiori esponenti del mondo dello spettacolo, in un programma esclusivo di Antonello De Pierro, con la regia di Sandro Alessio. Grazie. 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 Grazie.